Sidel Bundesstaat al piano di estensione degli aiuti ad Atene. Il via libera maggioranza del Parlamento tedesco al piano greco era considerato scontato, dati i numeri della coalizione di Angela Merkel alla Camera Bassa. Un voto non facile ma necessario, aveva detto prima della votazione il ministro delle finanze. Schäuble aveva chiesto ai parlamentari di votare a favore del piano di aiuti. Non stiamo parlando di nuovi miliardi per la Grecia, non stiamo parlando di nessun cambiamento del programma. Il voto di oggi serve a dare più tempo ad Atene per realizzare con successo il suo programma. La vigilia della votazione è stata segnata da qualche malumore, con Schäuble che aveva criticato il collega greco Varoufakis per aver rilanciato la ristrutturazione del debito. In molti a Berlino, dentro e fuori dal Parlamento, temono che Atene non farà le riforme promesse. Solo il 21% dei tedeschi, secondo un sondaggio, è a favore di un'estensione del bailout per la Grecia.